Buonasera a tutti, qualche breve dichiarazione, molti cittadini non sono rimasti contenti che mettere nuove misure al decreto, lo stiamo vedendo, questo è anche comprensibile, tutti speravano, comunque molti speravano di ritornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per ritornare alla normalità, questo ce lo dobbiamo dire in modo chiaro, in modo poco, noi stiamo attraversando adesso, ci accendiamo ad attraversare la fase 2, la fase 2 è quella di convivenza nel virus, non la fase della liberazione dal virus, vorrei ricordare che siamo in questa situazione perché c'è stato un paziente, la sentenza zero in Italia che ha portato a questa situazione, oggi noi siamo con 105.000 contagiati, domenica abbiamo avuto 2.300 contagiati nuovi, 256 nuovi recessi, quindi se affrontassimo questa fase 2 che significa convivere con un virus che continua a diffondersi, non con un atteggiamento prudente e responsabile, avremo la conseguenza ovviamente di comportamenti assolutamente imprudenti, assolutamente responsabili e chiaramente l'attuale veicodemia logica di stigione per il governo. Vorrei anche ricordare che con questo provvedimento, già con le misure adottate del 4 maggio, noi immettiamo, mandiamo un lavoro, questo significante sui mezzi pubblici, sugli autobus, mezzi di trasporto, 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori, 4 milioni e mezzo che vanno da giro, 6 milioni e mezzo di tanti lavoratori che stanno già lavorando, quindi sarà un flusso significativo che sicuramente creerà nuove occasioni di contagi. E poi ancora avremo un altro blocco il 18 maggio e ancora altri blocchi il 1 giugno. Secondo voi sarebbe responsabile affrontare dopo tante rinunce e sacrifici la fase 2 in modo diversamente potente, in modo assolutamente sconsiderato, con una ventatezza, improvvisazione, non ce lo possiamo afformire. Lo dobbiamo per rispetto a tutti coloro che sono morti, alle famiglie che stanno soffrendo e a quelli ancora che sono contagiati. Dobbiamo preservare la salute di tutti gli altri cittadini. Ecco perché dico, stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, non è un momento questo di libera tutti. Lo voglio dire chiaro, questo governo non cerca questo, questo governo cerca di fare le cose giuste e continuerà a fare le cose giuste, anche se questo dovesse scontentare il numero dei cittadini. Allora i cittadini devono avere fiducia sul fatto che le nostre decisioni sono decisioni responsabili nell'interesse generale e collettivo di tutti. Quindi predisponiamoci a rispettare le misure di distanziamento sociale. abbiamo introdotto qualche allentamento di queste misure, ma è chiaro che non possiamo nullare in questa fase. Ci sono, c'è qualche allentamento studiato. Abbiamo e daremo la possibilità dal 4 maggio di poter fare attività sportiva, l'avete sentito, attività sportiva anche allontanandosi dalle limitate vicinanze della propria direzione. Perché si rispetta la distanza di un metro, ci potrà essere libero sfogo all'attività motoria perché si rispetta l'istanza di un metro, anche qui allontanandosi dalla propria abitazione, i parchi pubblici. Sono misure studiate per affrontare questa fase, per cercare di alleviare anche le sofferenze e immagino anche psicologiche che tutti stiamo affrontando. Però questo non significa che noi dobbiamo ammare tutti i stati 10, 5 fatti. Dobbiamo continuare a reggere molto risposto. Presidente, come mai oggi in Lombardia? Proprio oggi? Ovviamente non sono venuto in una fase più critica perché l'apporto del Presidente del Consiglio che non è un sanitario non sarebbe stato un apporto, anzi forse avrebbe anche creato un tralcio nella fase più occupa dell'emergenza sanitaria. Quindi il primo momento utile era già nei miei proponimenti di venire, sarò qui, sarò a Prescia, sarò a Bergamo, se riesco, già che stasera vorrei passare a Codogno, l'Odi, ho degli orari un po' strani, spero di non creare per questo dei problemi. Poi ovviamente non posso dimenticare, c'è anche Piacenza, ma ritornerò, ritornerò presto perché adesso è una fase in cui c'è sempre una situazione di grande emergenza, però è la fase in cui forse do anche meno intraccio e concretamente diciamo meno fastidio agli operatori e ai responsabili che stanno operando in questa emergenza. I congiunti, Presidente, quando dice che si potranno raggiungere i congiunti, ci chiarisce che intende solo i familiari o anche i fidanzati? Aggiunti è una formula un po' ampia, generica, per dire che non sarà, adesso poi lo preciseremo anche con le facche, però voglio anticipare che non significa che si potrà andare in casa altrui in modo a trovare amici, parenti, a fare, scusate, parentesi, a trovare amici, a fare delle feste eccetera. Si andranno a trovare le persone con cui c'è un rapporto di parentela con cui ci sono stati relazioni affettive e via discorrendo. Ecco, però non è, non significa incontriamoci liberamente nelle case, tra amici, diamoci pacche sulle spalle, perché vorrei ricordarlo ancora una volta, un quarto dei contagiati, la causa di un quarto dei contagiati è nelle relazioni, negli appartamenti, in casa, nelle abitazioni primate. Presidente, si è aperto un tema con la CEI, le messe, le celebrazioni? Ma io guardi, l'ho detto anche ieri nella conferenza stampa, dispiace molto perché questo governo, ovviamente rispetto a tutti i principi costituzionali c'è una libertà religiosa, una libertà di culto, di potessare anche con la pratica religiosa la propria fede, quindi dispiace ovviamente di creare un comprensibile rammarico nella CEI e nella Chiesa italiana. Oggi siamo anche sentiti con il Presidente Bassetti, ci sentiamo spesso, siamo sentiti con loro, non c'è assolutamente nessun atteggiamento materialista da parte del Governo, nessuna insensibilità su questo. C'è sì una grossa rigidità come è stato anche anticipato da parte del Comitato Tecnico Scientifico, sul presupposto che diciamo anche nella letteratura scientifica che loro hanno, la pratica religiosa è una delle fonti, ma per dire statistiche, è stato rappresentato per quanto riguarda i focolai epidemiologici. Però come ho già anticipato, adesso ci lavoreremo, abbiamo bisogno di un po' più di tempo, lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di poter partecipare alle celebrazioni liturgiche in piena sicurezza. Trattanto, come è stato già anticipato, avremo un'apertura già per le celebrazioni funebri, e poi con questo protocollo che contiamo di definire nel pieno spirito di collaborazione con la CECO, con la Chiesa dei Vesco italiani, definiremo un percorso per poter garantire anche nel loro interesse, ovviamente, nei panni della responsabilità di un paroco che apre la Chiesa dei Fedeli e vuole garantire la massima sicurezza. Ma noi, guardate, in realtà siamo predisposti per misure territorialmente circoscritte. Quindi l'arazzo di questo piano, la filosofia è di avere un piano nazionale, perché altrimenti non si può controllare. Se uno lascia fare a livello territoriale e quindi ognuno va per la sua strada, sarebbe impossibile addirittura avere un piano, quindi un principio di razionalità, diciamo, che ci consentirà di governare la fase 2, la fase della convivenza. Dopodiché, se dovessimo misurare il compito del governo di approcciare con gradualità questa fase, se dovessimo, dopo il primo blocco di ripartenze che avrete, il secondo blocco di riscorrendo, verificare che c'è una curva di contagio che sfugge al controllo, ovviamente sarà fatto questo non in astratto, ma tenendo conto anche della recettività delle strutture ospedaliere locali, quindi sia la densità dei contagiati, il numero dei contagiati, la densità rispetto alla popolazione, la recettività delle strutture ospedaliere, ecco lì sì che interruggeremo a chiudere il singolo pubblico. Quindi è un piano molto elaborato, poi quando lo conoscerete in dettaglio lo vedrete, ma che ci consente anche di tenere conto, diciamo, delle realtà territoriali. Presidente, risposte, ho un'altra domanda, risposte serie e concrete alle famiglie che hanno figli che devono riprendere il lavoro, arriveranno? Perché quelle fino ad ora, i 15 giorni di congelo, in una regione dove ci sono mille casi ancora di contagio ogni giorno, pensare di fare entrare in casa una babysitter col trasporto pubblico locale, mi scusi ma sembra paradossale, è una non risposta di dover. Guardi, oggi, prima di venire qui, ho ritardato prima perché abbiamo avuto due videoconferenze, proprio con lo Stratore per le famiglie e con una delegazione di parlamentari per quanto riguarda le misure per l'infanzia. Stiamo studiando ovviamente quelle che sono delle misure, oltre a quelle che le ha citato, che erano già nel decreto curetale, cioè congedi straordinari e poi misure bonus per delle settimane. Stiamo studiando altre misure ovviamente da cercare di sostenere le famiglie, ci rendiamo conto delle difficoltà particolari del fatto che avere dei figli in casa che non vanno a scuola crea chiaramente un fatto su cui le famiglie non erano preparate e anche questo è fatto in emergenza. E cercheremo di dare sostegno economico, stiamo studiando, il piano per l'infanzia, in particolare per i ragazzi, le ragazze che vanno a scuola e cerchiamo anche di affrontare anche in prospettiva all'estate con delle misure. Torneremo presto a riferire.